Torna Jazz & Wine, siamo arrivati a che edizione Elisabetta? Siamo arrivati alla non edizione, ne siamo molto orgogliosi perché Jazz & Wine ormai è un appuntamento imprescindibile dell'estate a Retina. Quattro appuntamenti sulle terrazze della Casa Museo Ivan Bruschi, quattro concerti a partire dal 18, che è proprio giovedì prossimo, e poi il 25 agosto, 8 settembre e 15 agosto. Ottima musica e accompagnata da ottime degustazioni. Quest'anno le collaborazioni sono molte con Cantine del Territorio e poi anche per l'organizzazione stessa dell'evento, siamo stati accompagnati da Arezzo Music Fest, piuttosto che Officine della Cultura, ovviamente Jazz & The Corner, che è il nostro partner principale per quanto riguarda la direzione artistica, con Francesco Giustini. Il programma quest'anno è molto ricco, come sempre cerchiamo di spaziare, diciamo così, tra i vari ambiti del jazz, tra i vari sottogeneri. Abbiamo giovedì, iniziamo con il trio di Giovanni Benvenuti, che è uno dei migliori sassofonisti che abbiamo in Italia, che presenterà il suo nuovo disco, e poi proseguiamo con il quartetto di Giorgio Ferrera, Valle Santa Corde, ce ne sarà un po' per tutti i gusti, diciamo così, dal jazz più tradizionale al jazz contemporaneo, all'etno jazz, direi, fino ad arrivare all'ultima serata dove ci sarà un quartetto internazionale. Vi invitiamo ovviamente a passare una splendida serata in compagnia di ottima musica e di ottimo vino.